ciao a tutti amici di rocker tv bentrovati al nostro appuntamento a lezione con io sono andrea rock e insieme ci stiamo occupando di comunicazione come risultare efficaci in un intervento radiofonico vi svelo un altro piccolo segreto ovvero seguite questa regola troppa informazione equivale a zero informazione quindi cercate di non essere tuttologi in merito a un intervento radiofonico date poche informazioni fondamentali in modo tale da far sì che i vostri ascoltatori possano immagazzinarle facilmente vi faccio un esempio di un intervento che prevede troppe informazioni e quindi non efficace erano i red hot chili peppers con under the breeze tratto dall'album blood sugar sex magic 1991 quanti dischi meravigliosi sono usciti nel 1991 pensiamo hyper jam pensiamo agli u2 pensiamo ai nirvana tutti dischi meravigliosi nel 1991 i red hot chili peppers con blood sugar sex magic con questa formazione incredibile anthony kiddis alla voce flea al basso c'è john frusciante alla chitarra e c'è chad smith alla batteria veramente incredibili tour che li ha portati in giro per il mondo un successo via l'altro e questa canzone forse un po troppo pop li ha consegnati ufficialmente nella storia del mainstream adesso andiamo avanti spostandoci dall'america al vecchio continente con i biffi clairo abbiamo dato veramente troppe informazioni troppi nomi provate a immaginare a un ragazzo che sente per la prima volta quella che è la line up dei red hot chili peppers risulterà ubriaco al termine del vostro intervento concentratevi su un'informazione e fatelo bene erano i red hot chili peppers con under the bridge tratto dall'album blood sugar sex magic del 1991 30 anni fa in quell'anno uscirono dei dischi fondamentali per la storia della musica quello dei red hot chili peppers blood sugar sex magic è un esempio prodotto da rick rubin line up da urlo con under the bridge che abbiamo appena ascoltato i red hot chili peppers entrano ufficialmente nel mondo del mainstream rock adesso andiamo avanti con un'altra formazione sicuramente molto interessante loro sono i biffi claire l'intervento chiaramente come avete sentito è più breve ma intanto abbiamo dato un'informazione importante abbiamo contestualizzato un disco abbiamo cercato di attualizzarlo dicendo che sono passati 30 anni da quella pubblicazione e ufficialmente abbiamo consegnato qualcosa di utile ai nostri ascoltatori e quindi amici ancora una volta troppa informazione equivale a zero informazione vi aspetto qui su rocker tv per altre pillole legate al mondo della comunicazione